Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Nestola, professore di mineralogia presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Nel 2013 sono stato finanziato dalla European Research Council con un progetto quinquennale sullo studio delle inclusioni mineralogiche all'interno dei diamanti naturali. Oggi vi voglio parlare dell'ultima scoperta che abbiamo fatto e che è stata pubblicata su Science ed ha ricevuto anche la copertina. In particolare vi voglio parlare di diamanti super giganti, quelli come ad esempio il Culinan, diamanti da 3000 karatii, o come la Stella del Sud, come questo, questa è una replica che abbiamo al Museo di Mineralogia, 130 karatii, perché questi diamanti sono stati fino ad oggi assolutamente enigmatici, in quanto i possessori non avevano mai permesso di studiarli dal punto di vista scientifico. Grazie alla collaborazione con il Gemological Institution of America e il dottor Evan Smith abbiamo avuto la possibilità di studiare alcuni frammenti di diamanti molto importanti e attraverso l'utilizzo della nostra strumentazione qui a Padova acquistata con l'IRC abbiamo potuto studiare delle inclusioni molto piccole all'interno di diamanti estremamente grandi. Questo ha portato per la mia volta alla scoperta di inclusioni mineralogiche assolutamente eccezionali che hanno aperto dei nuovi scenari dal punto di vista del mantello profondo del nostro pianeta. In particolare abbiamo scoperto che all'interno di questi diamanti super giganti vi sono delle inclusioni di ferro nickel, carburi di ferro, solfuri di ferro e che queste inclusioni sono completamente circondati da un fluido di metano e idrogeno. Le implicazioni sono notevoli perché intanto il fatto che ci sia idrogeno su diamanti che sono praticamente nati tra i 360 e i 750 km di profondità conferma la scoperta che abbiamo fatto e pubblicata su Nature nel 2014 sul fatto che l'acqua è effettivamente presente a grandissime profondità. La seconda grossa implicazione è che questi diamanti giganti si formano all'interno di fluidi metallici che fino ad ora non era assolutamente stato mai ipotizzato. Grazie mille per l'attenzione e spero di rivederci presto.